Alla prima mischia Orlando commette fallo su Bianchi appena entra in aria, un intervento precipitoso seguito da proteste che costringono 30 lange ad ammonire il giocatore per la seconda volta. La Fiorentina rimane in 10. Matteus non cerca sottigliezza e Scarventi porta un pallone imprendibile, 1 a 1. Il campione tedesco dimostra di attraversare un grande periodo di forma, eccellente spunto di classe e tiro appena alato. La Fiorentina rimane in 10.